Salve popolo del tubo, sono sempre io Draker e oggi finalmente siamo in un gameplay vecchio stile Ho visto molti gameplay su youtube per quanto riguarda questo gioco E quindi ho deciso che anch'io oggi voglio portare Getting Over It e provarlo assieme a voi Infatti non l'ho mai provato fino ad ora, infatti come potete vedere anche dal menu iniziale del gioco Si sta a continuare ma solamente per vedere se il gioco partisse effettivamente o meno Il gioco è partito quindi ho deciso, cazzo, accettiamo la sfida e proviamo a giocare a Getting Over It senza sbestemmiare possibilmente Detto questo ragazzi vi devo poter smettere con le chiacchiere iniziare a provare Getting Over It E vediamo se davvero fa incazzare come si vede in tanti video su youtube Vamos! Salve! Ok il gioco parte direttamente così, cioè non ci sono presentazioni, non c'è una storia, non c'è niente Sappiamo solo che c'è sto tizio dentro un calderone con sto martello Perché? Direi che possiamo iniziare, ok si, già si muove, già fa tutto Da dove cazzo si fa? Suppongo da questo lato Quindi ok, si fa così per andare avanti E già abbiamo trovato il primo ostacolo Vediamo un po' se riusciamo a superarlo Ok il primo è fatto Vai col secondo, dai che ce la fai Eh mo, eh mo come si fa? Minchia pro gaming ragazzi, pro gaming, questo è solo pro gaming Ok il problema adesso è di attraversare questo piccolo tronchetto Eh, ma non devi scivolare là ciccio, devi andare qua sopra No, e allora se la fisica non è un'opinione Dovrei provare a... No, aspetta, stai calmo, stai calmo Alziamolo Excalibur Scendiamo così e ci diamo una spin... No, 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 no Scherzavo, 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 scherzavo Vabbè, lascia, la, la, eh, ma mi sono incastrato adesso Mi sono, mi sono incastrato Raga, mi sono incastrato, non posso più togliere... No, serio? Lascia questo cazzo di coso Raga, adesso mi sono, mi sono incastrato, raga, non posso fare un cazzo Cioè, il martello si è incastrato dall'altro lato dell'albero Raga, aiuto Si è incastrato, porca troia Vaffanculo, si è incastrato Niente, sono incastrato, non posso più andare avanti Il gioco finisce qui Oh, 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 sì, 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 ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Ok, ok, no, no, dai, stai calmo Calmati con quel cazzo di martello Allora, allora, con calmo, con calmo Una cosa per volta Ok, arrivato qua, datti una bella spintarella E dagli a sta spintarella Raga, siamo fermi al primo livello Ci stiamo già bloccando al primo livello Partiamo bene Allora, calmo, stai calmo Prendi il martello Cos, cos, pa, porca puttana Cioè, pure io avevo visto dei gameplay in cui Almeno il primo livello, lo riuscivano a passare senza troppi problemi Allora, il fatto che non riesca a superarlo mi fa fare molte domande Poi, al tal fatto, però, i comandi sono fatti malissimo, mamma mia Troppo male Sì, sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Grande, best, eu Salto, best, eu Ok, però adesso qua c'è un altro problema Qua ci troviamo di fronte a delle rocce da superare Oddio, non sembrano difficili come quell'albero del cazzo Ok, ok, ok Eh, ma Ma serio, la parte più stupida devo bloccare? E salta, cazzo No, no, no Va, piano, piano Piano, piano Madonna Sì No Scendi giù Piano Scendi da sto cazzo di albero Ok 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 Stavo per ritornare dall'altro lato dell'albero Mi stava venendo un attacchi cardi Sì 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 Oh È finito sto livello del cazzo? Ma voi non siete normali Forse so come avanzare in questo punto Allora, da quanto ho capito Basta che diamo uno slancio Magari dall'altro lato, eh Allora, innanzitutto avviciniamoci Dopodiché ci diamo Uno slancio Pia, pia No Vai Così No Sì No 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 Sì Sì E prendilo Quella cazzo di pa Quella cazzo di pa Cos'è un remo Cos'è Non ci arrivi, eh Fa Sì No No Dai, però, già il fatto di essere riusciti a superare almeno quell'albero È già un passo avanti Sì 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 No No, 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 no Sì La, la No Sì, 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 sì 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 No, no Madonna, ho l'ansia, raga Ho l'ansia Musica jazz del cazzo Donna Madonna Sti angoli dai No Oh Sì Sì Madonna E salta Sì No, 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 no Piano Piano Pia 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 Piano No E adesso Sì No No, 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 calmo Sì Vai Vai No No Sì volta l'obiettivo di questo video arrivare almeno a livello successivo dai almeno a livello successivo non chiedo troppo oltretutto di quanti livelli è fatto questo gioco spero pochi e prendi quella cazzo di rocci sì sì no 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 sì sì no 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 non hai capito un cazzo della tua vita dai sali sopra sto cazzo di madonna sì no devi andare dall'altro lato non è cosa però non è giornata non è giornata wow wow che cazzo ma dopo il fatto che mette sti versi di merda madonna i nervi ma ti stai zitto sì sì fè fè piano 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 no dai ce l'aveva fatta ce l'aveva fatta piano piano non fare la solita cazza bravo no 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 il problema è quel remo se supero il remo poi ho superato metà dei problemi ma almeno il remo fammelo superare sì bravo bravo no è una è una tortura lascia lascia il remo bravo ma perché puoi dare la spinta sotto dai e ma porca puttana ma dai sì no ma perché si spinge in fondo devi semplicemente darti una spinta ma non così no 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 dai è un cazzo di tetto di merda adesso non più il remo il remo ancora ancora non si riesce a superare adesso è il tetto il tetto del cazzo no calma vai sì ma donno ma donno sì sì pia pia calmati calmati che ce l'abbiamo fa non cadere giù non cadere non cadere giù uff sorry about that ma di meno un cazzo sotto nei denti sorry about that che poi ho capito il gioco che cosa vuole fare ti provoca con questa musichetta jazz mentre tu stai smadonnando di fronte a una cazzo di roccia che non riesce a oltrepassare e il tizio che parla che io ho tolto la voce perché se no mi incazzavo ancora di più ti prende per il culo ma sta roccia di merda rotto i coglioni ma per forza la dovevate programmare ma ma lo vedete che si griscia si griscia si sposta qui sta da un lato e si sposa boom così dall'altro lato che poi quando riesco a prendere il remo è tutto per questione di culo quasi eh e vabbè continuo da zapparla a capo un bacio omur su cazzo tra mano voglio cercare di darmi lo slancio così ma non riesco eh no eh dai ma che palle dai dai che ce la facciamo dai che ce la porco due facciamo no si oh ok no perché ho premuto no vai piano che chi va piano va sano e va lontano si 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 no 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 ce l'avevamo praticamente fatta ce l'avevamo praticamente fatta non siamo credo però non siamo caduti oltre quella Questa roccia qui No, non hai capito un cazzo Stavolta io ti supero No, 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 salta 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 Attraverso No, allora Con la calma No No, 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 no Ti prego, ti prego, ti prego Ti prego, no No, 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 no Ragazzi il video termina qui Come al solito io vi ringrazio per avermi visto fino alla fine Mettete mi piace alla mia cazzo di pagina Facebook Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Se no vengo a casa uno per uno e vi picchio Il gioco termina qui Non chiedetemi più di portare Getting Overly Mi avete rotto tutto il cazzo, ciao